Oltre 750 milioni di euro di investimenti, non tutti utilizzati, 5.000 posti di lavoro bloccati in un certo senso. Questa è la situazione di Bari e dell'area metropolitana? 750 milioni di euro sono una parte di risorse che noi abbiamo individuato, di possibili cantieri da aprire, di infrastrutture importanti, di opere importanti da poter realizzare sul territorio. Non tutti utilizzati, quindi non tutti cantierizzati. Abbiamo fatto un calcolo attraverso il nostro centro studi, da 750 milioni di euro per cantieri avrebbero fuori almeno 5.000 posti di lavoro. Ora, ci risulta che molti cantieri non sono ancora aperti, molte risorse non sono ancora utilizzate, sarebbero disponibili ancora risorse per circa 4.000 posti di lavoro ancora. Io penso che non possiamo permetterci di perdere questa opportunità di lavoro sul nostro territorio. Se paragoniamo 4.000 posti di lavoro, stiamo ragionando di due volte i lavoratori della Natuzzi, stiamo ragionando del fatto che su OM riflettiamo su 200 posti di lavoro che perdiamo. A fronte di questo, avere la possibilità di utilizzare risorse per fare 4.000 ulteriori nuovi posti di lavoro, io penso che è una cosa che noi dobbiamo fare, un'attenzione che sicuramente il sindacato deve avere su questa vicenda. Poi perché si bloccano i cantieri? Questo è il tema, di questo dobbiamo discutere. Molto spesso si bloccano perché la burocrazia è lenta, alcune volte perché mancano soltanto qualche autorizzazione, altre volte ci sono problemi legislative di norme che vanno interpretate e superate, alle volte ci potrebbe essere anche sciatteria e disattenzione delle istituzioni, noi valuteremo, interverremo a seconda del tipo di intervento da fare, faremo la nostra parte. Continua lo studio capillare del territorio di Bari e di tutta l'area metropolitana, più Bari più Smart è stato il primo lavoro, adesso c'è questo secondo approfondimento. Questo è un approfondimento del lavoro che abbiamo fatto con il nostro progetto più Bari più Smart, avevamo assunto degli impegni con le parti sociali, con i nostri iscritti, con la città di Bari rispetto a quel progetto e alla realizzazione di quel progetto. Abbiamo fatto degli accordi importanti con il Comune rispetto alla Costituzione dell'Urban Center, abbiamo fatto importanti accordi insieme anche a Cisle Will con Confindustria, rispetto alla possibilità di costruire dei tavoli comuni per fare sviluppo nella zona industriale barese, abbiamo discusso con il partenariato allargato insieme alla Camera di Commercio. E quindi su un altro progetto, con l'Anci abbiamo ragionato rispetto a questa importante infrastruttura che noi mettiamo sul nostro progetto da recuperare, che è quella dell'infrastruttura della legalità, sono note le denunce fatte dal l'Anci e la nostra proposta del delegato alla sicurezza, stiamo lavorando su questo per formare i delegati alla sicurezza. Insomma noi stiamo provando a concretizzare le cose che abbiamo scritte, non era soltanto per noi fare un convegno e scrivere delle belle cose, un bel libro dei sogni, noi vogliamo realizzarle quelle cose e ci stiamo provando. Ora, quello che stiamo facendo, stiamo esattamente in linea con il nostro progetto. Questo è il primo approfondimento, stiamo già discutendo e ragionando sui piani sociali di zona, sull'utilizzo delle risorse del piano sociale, sono tantissime anche quelle, come vengono finanziate, che cosa producono in termini di servizio, che cosa producono in termini di occupazione, se tutte le risorse sono utilizzate, questo è il nostro futuro lavoro. Grazie a tutti.